Dopo i giorni del caos dentro il Movimento 5 Stelle, il Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza, Fico, ammonisce i suoi. Non possiamo perderci in correnti, torniamo uniti. E non mancano le critiche dure che i pentastellati muovono al governo Renzi. Se ne fa portavoce l'ex capogruppo dei 5 Stelle a Montecitorio, Lombardi. Stiamo assistendo in questi giorni basiti ed esterefatti alle nomine del nuovo governo Renzi. Stiamo vedendo un giro di facce che sono sempre le stesse e stiamo ancora aspettando questa novità dirompente di Renzi che porti qualche fatto. Per ora rimaniamo solamente ad ascoltare i chiacchiere e se rimaniamo in attesa di fatti.